Lo spettacolo amici di Weekend Dance continua ed è uno speciale molto particolare Wedding Dogs organizzato da Zomi Guana, il megastore più grande degli animali nel sud Italia Proprio loro, gli amici a quattro zampe, protagonisti in passarella con la moda Guardate il servizio Chiaramente prima di essere protagonisti, i nostri amici a quattro zampe in passarella Devono essere curati ed essere ancora più belli Scusate il bisticcio, allora ci pensa il toilettatore Bruno Zomi Guana, benvenuto su Weekend Dance Ciao, buonasera a tutti Ormai sei straconosciuto in tutta la campagna perché tu sei il toilettatore per eccellenza degli amici a quattro zampe Grazie a te Grazie a te che sei bravo Su di lei che cosa stiamo facendo? Su di lei abbiamo impostato una rasatura francese Praticamente adesso stiamo solo dando volume per portarla in passarella Per prepararla e farla sfilare Sì, è pronta praticamente Questo capita solo da Zumi Guana Zumi Guana Guana Se avete naturalmente anche voi un amico a quattro zampe invia a Santa Maria a Cupito Qualiano, chiamate Bruno in sala toilettatura e si fa anche al Giambo Trento la Ducente nella nuova sede a Casoria Certamente, abbiamo sposato lo stesso progetto, salute e benessere per gli animali Tu sai perché il tuo cane è spesso trattato dalle sue mani Il nostro cucciolo piacenti è sempre trattato dalle sue mani Abbiamo gli stessi prodotti e abbiamo la stessa tecnica di toilettatura Lo stesso servizio professionale o a Qualiano o al Giambo o oppure a Casoria Non cambia nulla E allora buona toilettatura Grazie mille, buona serata Grazie mille Con la dottoressa Santaniello Virginia, benvenuta a Weekend Dance Grazie, benvenuti a voi Un evento importante è qui nella fiera mia sposa C'è il Wedding Dogs con tutti i protagonisti Gli amici a quattro zampe di Zumiguana, con i bambini e con la moda Quest'anno abbiamo voluto regalare una serata eccezionale Wedding Dogs, seconda edizione L'amore non può aspettare Vista e tradotta con gli occhi e il cuore di Zumiguana Abbiamo la partecipazione di tanti bambini, di tanti animali a quattro zampe Quattro vallette speciali questa sera che ci accompagneranno Perché noi saremo i presentatori della serata Quindi avremo quattro vallette con noi e ci divertiremo sicuramente Io avrò l'onore di esserti accanto in questa serata d'eccezione Con noi ci saranno quattro vallette d'eccezione Sarà presente con noi il presidente dell'associazione Down Il signor Adriano Tedeschi Ci sarà con lui anche il vicepresidente Pagano E poi ancora i bambini della scuola dell'Accademia Il Poggio di Aversa Nel balletto Cats Perché questo? Perché un gatto farà sfilare un cane Ecco questo è molto bello Non più cani e gatti ma diventano amici E c'è questa bella sfilata qui in Passarella Con Zumiguana Il Megasole degli Animali ricordiamo i tre punti importanti Quello di Casoria l'ultimo arrivato Via Santa Maria a Cubito a Qualiano E poi al centro commerciale a Giambuno 30 la 200 Siamo dove siamo Viva sempre gli animali Viva gli animali e l'amore non può aspettare And people dance and singe We're just one big family And it's our God's forsaken right to be loved Love, 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 love So I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm sure there's no need to Complicate Our time is short This is our fate I'm yours È un piacere ritrovare il nostro amico Antonio Cotena Direttore di Zumiguana Benvenuto Ciao, ciao a tutti Ciao Dino La grande famiglia degli animali Il Megasole più grande del sud Italia Santa Maria a Cubito a Qualiano All'interno del centro commerciale Giambuno 30 la 200 E anche a Casoria Finalmente non c'è due senza tre Assolutamente sì A Casoria Con un grande riscontro È bellissimo Siamo stati con la telecamera di Weekend Dance Per inaugurazione Questa sera all'interno della fiera Mia sposa non edizione Seconda edizione di Wedding Dogs Organizzato da Zumiguana Certo E non potevamo mancare a delle cose così belle Come le spose, i bambini E gli animali Più belli degli animali, dei cani Non c'è nulla È una sinergia perfetta L'abito da sposa Le future spose I bambini I cani Gli amici a quattro zampe Che non possono mai mancare a qualsiasi evento Assolutamente Anche in questo evento Naturalmente ci sono delle sfilate E poi degli esemplari bellissimi Certo Esemplari sia di Zumiguana Che anche di clienti Che abbiamo invitato qui a mia sposa E poi naturalmente si avvicina il Natale Acquistate un regalo per il vostro amico a quattro zampe Che può essere un vestitino Che può essere un gioco Può essere insomma Tutto quello che riguarda il cane E dal mangiare al divertimento A proposito di questo che tu dicevi Mi affianco a questo Per dire che anche per un cucciolo Acquistando da noi un cucciolo Bisogna prenotarlo adesso Per averlo poi a Natale Già fornito di vaccinazioni e sverminazioni Quindi o andate in via Santa Maria a Cubito A Qualiano O al centro commerciale Giambuno 3900 Oppure in una nuova sede a Casoria Sì a Casoria in via Circumpolazione Esterna 89 Viva gli amici a quattro zampe Sempre Sempre Viva Zumiguana Zumiguana soprattutto Ciao Ciao Love is a tempo Don't take it for granted And when it happens It's time to write your story I tried to break all the rules In order to hurt you soon But it's time I'm close to you Girl You slip away from me Don't ever lose the chance to get here Ooh yeah Wicked corpse You better make this train on time Here and now Love is a temple Seconda edizione Wedding Dog All'interno di mia sposa Centro commerciale Giambuno 30 la docenta Organizzata a Zumiguana Con noi il titolare Antonio Locatania Benvenuto e complimenti Una serata bellissima Grazie Come tutti gli eventi belli Noi siamo quasi sempre presenti Assolutamente Quando si parla di bambini Amici a quattro zampe Questa sera abbiamo avuto la bellezza Di quattro super ballette speciali Che si sono divertite insieme a noi Sì Ballette bellissime Si sono divertite anche loro Assolutamente Hanno provato un sacco di Però Se no sono cavata Veramente bene Ricordiamo Il nuovo punto vendita di Zumiguana Da quello storico In via Santa Maria Cubito A Qualiano Al centro commerciale Giambuno 30 la docenta E in quello nella città di Casoria Sì Devo dire che Sta riscuotendo un grande successo Quindi siamo veramente contenti Molto soddisfatti Quindi amici Se dovete acquistare Un amico Scusate il bisticcio A quattro zampe O a Casoria O al Giambio 30 la docenta O a Qualiano Quindi non si scappa Da questi tre punti geografici Della campagna Assolutamente no Anzi Noi stiamo In apertura Con altri due punti vendita A Napoli E poi Il prossimo Che sarà Penso a momento È anno nuovo Quello Di Bari Che sarà Una bellissima esperienza Per noi E per Gli abitanti di Bari Quindi diamo anche Delle belle notizie Per chi ci sta guardando E seguendo anche Dalla regione Puglia Sì possiamo dire Che Zumiguana È senza confini E poi una cosa Molto importante Ricordiamolo Zumiguana È partner ufficiale Della società sportiva Calcio Napoli E possiamo anche dire Che da quando loro Sponsorizzano il Napoli Il Napoli Vince sempre Mi hai rubato La battuta Perché lo volevo dire io Lo volevo dire Perché è veramente così Quindi Forza Napoli Forza Zumiguana Forza Zumiguana